Il Dipartimento di Economia offre a tutti gli studenti diversi servizi per supportarli dal punto di vista didattico, finanziario ed inserimento al lavoro. Sul sito web dell'Ateneo, nella pagina dedicata al corso di laurea, potete trovare le informazioni relative alla didattica, agli insegnamenti, agli orari delle lezioni e al ricevimento dei docenti. Gli studenti potranno accedere ad una piattaforma e-learning dove i docenti pubblicano il materiale relativo alle lezioni. La app Insubria, disponibile sia per piattaforma iOS sia Android, permette di accedere a tutte le informazioni contenute nella piattaforma e-learning, oltre che al libretto elettronico relativo alla carriera dello studente. Nel padiglione Montegeneroso, sede principale delle attività didattiche, sono a disposizione degli studenti la Biblioteca di Economia per il prestito libri e per lo studio individuale, i laboratori linguistici ed informatici. Gli studenti del corso di laurea triennale possono usufruire del servizio di tutorato gratuito offerto dai dottorandi e dagli studenti dei corsi di laurea magistrale del Dipartimento. Le attività di tutorato sono finalizzate a supportare gli studenti lungo tutto il percorso di studi, consigliarli sul metodo di studio e nella risoluzione di problemi particolari. Il servizio di tutorato è disponibile per tutte le aree disciplinari del corso di laurea. L'Ateneo supporta gli studenti con disabilità o con certificazione di disturbi specifici dell'apprendimento, attraverso l'erogazione di servizi e iniziative che garantiscano pari opportunità nello studio e aiutino a rimuovere condizioni e situazioni che possano rappresentare un ostacolo alla piena integrazione. L'Ateneo eroga borse di studio finanziate con fondi regionali o con fondi dell'Ateneo. Tali borse di studio richiedono requisiti di reddito o di merito. Il Dipartimento di Economia, per gli studenti del terzo anno in possesso di requisiti di merito, bandisce annualmente borse di studio finanziate con fondi della Camera di Commercio della provincia di Varese. Un altro strumento di autofinanziamento degli studi è la collaborazione studentesca. A partire dal secondo anno, gli studenti possono iscriversi all'albo delle collaborazioni studentesche, attraverso le quali collaborano col personale dell'Ateneo presso gli uffici amministrativi, per un massimo di 200 ore annue. Gli studenti, attraverso i loro rappresentanti, possono partecipare in modo attivo alla vita del corso di laurea, portando il loro punto di vista nelle sedi dove si decide e si organizza la vita universitaria. Presso il Dipartimento di Economia è attivo lo sportello Orientamento e Stage, che si occupa di supportare gli studenti nell'attivazione di tirocini curriculari e di organizzare diverse iniziative di orientamento al lavoro. Tali iniziative, affiancandosi al percorso diattico, permettono agli studenti di completare la formazione acquisendo competenze trasversali, sempre più necessarie per affrontare con professionalità e successo il mondo del lavoro. Questi sono solo alcuni dei principali progetti di orientamento al lavoro realizzati negli ultimi anni. Si tratta di percorsi formativi, pratici ed esperienziali, che hanno lo scopo di aiutare gli studenti a mettere in pratica le conoscenze teoriche acquisite in aula, attraverso giochi e simulazioni o testimonianze di imprenditori e professionisti del mondo del lavoro. Infine, l'Ateneo mette a disposizione degli studenti borse di studio per partecipare al programma Erasmus+, che promuove la mobilità internazionale degli studenti delle università europee. È possibile partecipare al programma Erasmus+, a partire dal secondo anno, scegliendo il percorso di studi da svolgere presso una delle università europee convenzionate, che ad oggi sono circa una quarantina in 17 paesi europei. Tutte le informazioni del corso di laurea sono riportate sul sito web di Ateneo nella pagina dedicata. In particolare, nella scheda per corsi formativi e programmi, trovate il dettaglio degli insegnamenti inseriti nel piano di studi e per ogni insegnamento è pubblicato il programma del corso di laurea, i metodi didattici e le modalità di verifica dell'apprendimento. Per rimanere aggiornati con tutte le novità, consultate il sito web e mettete il vostro like alle nostre pagine social Twitter, Instagram e Facebook. Grazie per la visione!